Ciao ragazzi! Avete visto cosa vi ho postato ieri come articolo? Sembrerebbe che ci siano più looping solo alla provincia di Cuneo, dove risiedo io che in tutto l'arco alpino. Bene, io vi posso dire, ho provato per anni a collaborare con le istituzioni, cercando di aiutarli per risolvere il problema. Ecco, non solo non hanno mai accettato il mio aiuto poiché io sono uno che politicamente non è inserito come piace a loro, ma addirittura hanno sempre rifiutato il mio invito. È stato fatto un convegno, tutto ciò che io ho detto al convegno non è mai stato applicato, ma non solo, in occasione di quel convegno è uscito il mio libro e c'è stata parecchie persone proprio del progetto Live World che andavano nei posti dove vendevano i miei libri per dire guardate che quel libro non è concorde con i nostri principi e quindi voi non potete venderlo. Ma questa si sa, purtroppo è l'Italia, l'Italia va a colpire laggiù dove le cose non funzionano e non si vogliono trovare mai le soluzioni, per nessun motivo. Però quello che vi voglio dire, voi non date retta a chi dice che i cani da guardiani antilupo non funzionano, non funzionano i loro, non funzionano quelli che loro hanno voluto inserire perché c'erano degli obblighi ben precisi, c'erano delle direttive, cioè c'erano determinati cani che dovevano diventare famosi e allora a livello di razza sono diventati obbligatori se no non davano i contributi. Ma se avessero seguito un minimo delle mie dritte come hanno seguito dei pastori che in questi ultimi anni hanno applicato ciò che io le ho detto come consiglio, i problemi di lupi li hanno azzerati. Voi pensate che poco tempo fa io sono stato in alpeggio in un posto a portare due o tre cani, c'erano sei di quei cani che sono stati, si può dire, imposti agli allevatori. Bene, questo allevatore continuava sempre a avere attacchi dei lupi. Sapete cosa è successo? Che solo a inserire dai primi minuti tre cani, i cani si erano già impossessati del gregge e questi sette cani erano usciti dal gregge se ne stavano andando lungo la montagna. Ma sapete una cosa ancora più ridicola? Che c'è stato un cane che ha reagito contro i miei cani che ho portato in quel gregge, è stato un cane toccatore, un lupetto che pesava al massimo 30 kg ha avuto la forza di attaccare i miei cani che si stavano impossessando del gregge. Benissimo, questo è stato il lavoro che porta la gente a dire che il cane da guardiania non funziona. Il cane da guardiania funziona tantissimo, non è il caso di averne 7 mila, basta averne due o tre di quelli buoni. A proposito di quello, vi voglio dare due o tre dati. Che cos'è che differenzia un buon cane da guardiania da un cane da guardiania che praticamente non servirà mai e il lupo continuerà a venirsi a prendere le pecore e i capi di bestiame. E' il modo che ha di operare. Quei cani che vengono super consigliati perché sembrano comodi, che tutti i pastori inesperti stanno cercando, ovvero quei cani che stanno sempre nel gregge. Ecco, questi sono i più inutili possibili. I cani che stanno sempre in mezzo al gregge sono quelli che sentono l'odore dei predatori, hanno paura anche loro dei predatori e cercano di nascondersi in mezzo alle pecore. Quindi praticamente sono cani ma in fondo sono pecore. Il lavoro, anche in Abruzzo, che fanno i migliori cani da gregge, sono sempre quello dell'avanguardia. Intuiscono dove il gregge si sposta e loro vanno 300-400 metri prima cercando di annusare, di scovare se il predatore si è piazzato. In più, marcando continuamente il gregge, territorio a 300-400 metri avanti di dove si sposta il gregge, creano una specie di barriera territoriale che il lupo, se aveva qualche intenzione di attaccare il gregge o attaccare il bestiame, si sente costretto a rinunciare. Ecco, è molto importante che se voi scegliete i vostri cani, guardiate già questo tipo di operatività che hanno e incominciate a capire da queste piccole cose se funzionano bene. Quindi, i cani che sono sempre in mezzo al gregge, quelli che vi piacciono tanto perché quasi non li trovate più, perché sono nascosti sotto le pecore, perché vi sembrano così idone a vivere col gregge, perché magari le leccano, perché magari… ecco, quelli sono i cani che al lupo non gliene frega niente. Preferite piuttosto cani che si fanno rispettare dal gregge. Non importa che se magari loro stanno mangiando un pezzo di pane, arriva la pecora e loro le danno una morsicata, perché questo carattere è lo stesso carattere che sente anche il lupo attraverso l'urinata, attraverso le marcature e sta alla larga. Non dimenticatevi mai che io ho girato il mondo per scoprire questi segreti dai pastori. Mentre qui si parla di meticci, che sarebbero quelli pericolosi, gli ibridi che si creano fra lupi e cani. In Italia è vietato questo tipo di ibridazione, ma se voi andate in Asia Centrale, in questi punti critici, i pastori fanno per anni e anni selezioni su incroci voluti fra lupi selvatici e cani da pastore, perché tante volte il cane è talmente poco lupo che non è più in grado di poter contrastare il predatore. Di conseguenza, se voi volete realmente avere anche solo tre o quattro cani che possano proteggere il bestiame, dovete imparare a gestirle. È giusto che i vostri cani non credino problemi ad altri, ma dovete cambiare completamente mentalità e dare veramente poco ascolto a chi oggi si è spacciato per esperto, ma non può essere esperto, perché di cani non ne ha mai avuti, ne ha avuti pochissimi. Sapete cosa ha? Ha un bel posto di lavoro e ha un incarico dal punto di vista istituzionale di venirmi a insegnare cose che molte volte non sanno neanche loro. Ciao ragazzi, a presto e al prossimo filmato. Vi saluto.